Adesso qui da Emiliano Barbieri Che è andato di sopra Siamo con una nuova gitarra Unfinished Guitar Ciao a tutti qui da Emiliano Barbieri Hi Bisogna parlare anche inglese adesso All right All along I lost All I can see And I can't cause But I'm pissed by All the people say Just another guy All the lost I win All the lost I 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 lost Grazie a tutti. Dove siamo Paolo? Dove siamo? Questa è una chitarra che non è stata neanche dipinta. Questa è una nuova chitarra che non è ancora pagata. E' una nuova, l'ultimo ballo di Emiliano Barbieri qui a Bologna. Benvenuti a tutti. Facciamo questa piccola, corta, live screen. Questa è Emiliano, il bambino. Allora per tutti quelli che si sono connessi adesso facciamo una piccola diretta oggi per far vedere lo showroom. Ciao Mirko, ciao a tutti. Per far vedere un po' le chitarre che qui ha nel suo showroom Emiliano qui a Bologna. Faremo anche un brano in duo per presentare il brush pad che abbiamo realizzato insieme. E basta. E se lo volete venire a trovare qui a Bologna venite a provare le sue chitarre. In via Zanardi. In via Zanardi. Questa che chitarra è? Questa è una Les Paul, una replica Les Paul 54. Con pick up, dicevi? Sono dei pick up Gibson, fine anni 70. E Morgan Honduras. E il body in un pezzo unico, manico. Il Morgan Honduras, sempre. Una chitarra interraziale. Long Tenon. E Palisandro Brasiliano. E dot in cellulosa, celluloide. Quattro Vintage Pod CTS con due condensatori Bumblebee. Fai vedere. Originale. Bumblebee. Domestic Bumblebee. Facciamo un pezzo insieme così facciamo sentire. Ce lo tieni tu. Allora, abbiamo realizzato con Emiliano il Brush Pad, che è questa percussione applicata sul contrabbasso. che alcuni di voi hanno già visto. Barbigetta. Leak. Quello. Quello lì. Questo è il Brush Pad. Realizzato con pelle sabbiata, che ora vedete un po' sporca. Anche tensivo. Anche tensivo. Qui ci sono i piedini regolabili, montabili, smontabili. Se non lo smonto. Sono inclinati, quindi potete adattarli a qualsiasi superficie del vostro contrabbasso. E niente, è disponibile sul mio sito. Poi vi linko tutto nella descrizione. E la pelle, una volta che si consuma, si può sostituire tranquillamente. E niente, adesso vi facciamo sentire come suona. E niente, adesso vi facciamo sentire come suona. Quattro. Quattro. Mi? Anche in sospatto. No. Quattro. 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 Sì, me and S, we women's got a license to buy Why don't you mind your own business? Mind your own business, mind your business Mind your business, well you mind your business Yeah, you sure won't be mind your mind I'm not a big business in a big high tone I got all that I can do Just minding my own, mind your business Mind your own business, mind your business Mind your own business, mind your business Mind your own business, mind your business And you sure won't be деньги all the time Grazie a tutti. 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 Well, don't mind your bills, you'll be busy all the time. Yeah, yeah. Ciao a tutti! Non è finita Passa il telefono Vogliamo provare? Mi sono divertiti Non l'avevo capito C'è sempre qua A un certo punto ha detto Volevo andare su pick up Vogliamo provare un'altra chitarra Vuoi provare un'altra? Vuoi provare un'altra? Una telecast Una telecast Quella è stata però non l'avevo provata E anche queste due barbieri non l'avevo provata Siamo qui da Emiliano Barbieri Barbieri Guitars Siamo qui da Barbieri Guitars Come potete vedere la maglietta A parlare un po' di chitarre A parlare un po' di chitarre Un po' di brush pad Come dicevamo prima Questa è un'altra chitarra che Paolo voleva provare Sono tutte Sono tutte Fatte da Emiliano Giusto? Sì Fate a mano Repliche Modelli Sono repliche Di modelli classici Stratocaster Tele Telecaster E Les Paul Principalmente Poi ci sono alcuni modelli miei originali Che sono un po' delle rivisitazioni E collage di vari modelli Questa Molto surf, indie, pop Questa molto Jimi Hendrix Dicono che belle chitarre Ciao Steve Ciao Gianluca May Dicono che è bella quella verde gnola Non so cosa voglio dire Verde gnola? Sì Bella improvvisazione Mocha Comunque chitarra e brush suonano da Dio Complimenti Bravi ragazzi Il pezzo bellissimo Grandi Belle chitarre Due Magno il canale Via Zanardi numero 90? No 145 Qui a Bologna Numero 145 C'è Barbieri che fa le chitarre Barbieri Guitars Barbieri Guitars Barbieri Brush Pad Barbieri Magliette con l'Ossic Duo No si Barbieri Muro Barbieri tutto quello che volete ormai lo fa Anche taglio capelli Tutto Qua dentro ormai si fa tutto Chiamolo Zio che tagli i capelli Facciamo un altro brano Trevebbero Troppo 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 Grazie a tutti 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 Ciao a tutti 5 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti All right All right All right All right All right All right Uno spettacolo All right All right